Ciao e bentornati sul canale! Aveva dei dubbi? Si aveva dei dubbi che non funzionasse Allora Oggi giochiamo a Find Animal Cos'è? Praticamente io ci ho già giocato un peccettino Un gioco dove devi trovare Parkour! Parkour con gli animali! Per trovarne uno devi fare per esempio Un maiale Sei più veloce Qua ti manda indietro E devi prenderlo E perché non lo prendi? Perché non riesco vai indietro Prova da un altro lato Quattro lati Intanto provo il toro Cioè devi andargli addosso in pratica? Si per prenderli E in pratica devo trovare tutti gli animali Preso? No Intanto prendo il maiale Vabbè andiamo dall'oca Dai C'è anche un parkour Parkour con gli animali In questo caso si C'è morto Perfetto Lui non c'è nel gioco perché non riesce a Non ci credo Che fortuna E adesso? Parkour! Devo arrivare lì? Ce la farai? In pratica c'è una specie di quiz Per ogni animale E adesso che l'hai preso? Dovrebbe darmi qualcosa però Vabbè Vabbè E come faccia per se l'hai preso? Boh Io l'ho preso In teoria Ma non ce l'hai un magazzino In qualcosa dove vedere quelli che hai preso? No Bene Quello è un cavallo Con gli occhi grandi a pesce Però è un cavallo Sono bellissimi questi animali Sì Ma le opzioni sotto sono? Ah Ho preso l'orca Sì E l'orca L'orca No anche l'orca Anche l'orca Ok scusa Non vedevo Allora Me ne mancano alcune Il maiale l'hai preso Inutile che insisti Devi prendere il rottore Allora Che è un gallo Vediamo La rana Il cobra Poi L'avvocato Cos'è l'avvocato? Dov'è l'avvocato? E' questo qui Su aspetta Questo L'avvocato E' un gufo Un gufo Allora Andiamo Io vado a prendere il cobra Ho deciso Vado dal cobra Vai dal cobra Sai dov'è? Il cobra Sì Credo E' un po' difficile il cobra Però E lì troveremo un Parkour Tant'io tento di installare il gioco Ma non riesco L'ace l'alce Proverò a prendere anche questo L'ace l'alce Una scalata Direi Una scalata Questa qua non riesco Provo a prendere quell'altro là Provo a prendere quell'altro là Che non so che cosa sia Ah Parkour E adesso Scalata Laterale Con Parkour Detta anche Arrampicata Pericolosissima Stai per cadere? No Prego Brava Bravissima Ma chi è quello? E' un altro giocatore E' un tizio Ciao Altro giocatore Oh mamma Ah ma c'è sotto qualcosa Per Non Preso Lynx Che animale è? Non lo so Ucciditi No aspetta Forse c'è qualcosa più in alto E devi risalire? E vabbè di poco Deve risalire C'è anche la musichetta Di sottofondo Non so se si sente Si mi sa che c'è qualcosa Più in alto E allora andiamo più in alto Sempre più in alto Di lì non credo Ah si si va di lì Ragione Opa Bravissima Uy Già su Non so come ho fatto E' sulle palle di qua Non di lì Di qua secondo me Ah si in effetti Sulle palle di neve Vai E adesso No Sei caduta Staremo qui 15 anni C'è la fila sopra Installazione Sta cercando di installare Quindi potrei entrare Forse no Oggi niente Facciamo che spegniamo il telefono E lo riavviamo Perché in questi casi E' un'opzione Intanto io guardo Dal telefono di Sara Mamma mia E' difficilissimo Come hai fatto a stare attaccata? Non ne ho idea Super per cura C'è tensione C'è tensione Cos'è? E ho trovato Una mucca No Un migliore di neve Un migliore di neve Ma chi li scrive i nomi? Sappiate Quando andate in montagna Potreste trovare Un migliore di neve Guarda come si vede dall'alto Che bello Guarda quella torre Ma di vedere su quella torre E lì mi sa che non c'è niente Così ti ammazza? No Ah Sali su questo no? Sì E' difficile Ma va Cosa è difficile Per noi Non è niente difficile Tanto giochi tu È bloccato Sono morta Sì perfetto E si era bloccata Ma poi muore malissimo Cioè è proprio È brutto In realtà si siede Quando muore Non ero morta però È vero Qui sì Qui sì però Si sciolta Come neve Che è anche divertente Vederti così Perfetto Bravissima E abbiamo preso Il rinditore Sappiate che se salite Su una scala molto alta Potreste trovare Un rinditore Un rinditore Allora Chiederemo chi ha scritto i nomi Entra nella casa Non so Qua c'è un dilemma Come entrare in questo Posto Però mi sa che dobbiamo Trovare una chiave Non lo so È possibile Io salirei sulla torre Più alta Del Io entrerei in questa casa Io entrerei anche io In questa casa Io invaderei Salirei al piano di sopra Perché è sempre bello Andare a fare Gli affari degli altri Devo prendere questi fioli No Ok Perché ho visto al lato Un bottone tipo Con dei simboli Tipo quelli Ok In questa stanza Non c'è niente Dentro l'acqua Dentro l'acqua Prova dentro l'acqua Della vasca Non si sa mai In questi giochi Salta dentro l'acqua No C'è solo dell'acqua Perfetto No C'è solo dell'acqua C'è un'altra stanza E nell'altra stanza E nell'altra stanza Un letto Sali sul letto C'è una comodina Comodinati Aspetta Uh cosa La finestra Eh vuoi ucciderti Non ho capito Bene salta davanti alle finestre Tanto lo fa anche a casa Un quadro Apua E una porta Non c'è niente Non c'è niente Perché non sali sulla torre più alta del mondo Eh perché voglio andare nella parte Dove è tipo Egizia Non lo so Ecco Egizia Esatto qua Vedi Sennò dove lo trovo il cobra Scusa eh Ah il cobra è vero Eravamo a ricerca del cobra Abbiamo preso un rinditore E un coso delle nevi No qua c'è il coso La giraffa l'hai presa? Sì Credo Boh la riprendo Facciano vedere Che io non l'ho vista Questa è la giraffa Grazie Sì fino lì ci arrivavo anch'io Che era una giraffa Grazie mille per l'informazione Ho detto che è la giraffa Non che è una giraffa È la Non è qui giraffa È la giraffa Anche questo mi sa che Boh Eh È rinchiuso anche lui nella rete C'è il cobra E un altro Allora Il cobra non è difficile No pena Io impazzirei a saltare tutti quei cose Sapendo che se ne sbagli uno Torni indietro Bravissima Sara Wow E il cobra? Ce l'avevi già? Ah Boh non me lo dava Allora evidentemente un altro Un altro cobra È questo Devi salire su Aspetta fa vedere Schiuma Il cobra non me lo dà Dice anche che è facile Perciò Potevi star lì un attimo di più A vedere se te lo dava Cioè Hai rinunciato così subito Allora Prima Qua potremmo trovare O la voltoio O lo scimpanse Sono tantissimi Sì Ma tutti lì? Eh no Cioè sì Tutti in questa città Tipo Se fosse una città Sarebbero tutti In questa città Non devi salire su quello spigolo Scusa No perché se tocco Sti cosi rossi Muoio Ah ok Allora non devi salire sullo spigolo Le vomito Non capisco niente Perché li hai toccati? Non l'ho fatto apposta Adesso senti Ma dove lo cambio? Sali sulla piramide Sali Salgo sulla piramide Ok Vai Cos'è che c'è in cima C'è una porta lì C'è una porta C'è una porta Scendi 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 Aspetta aspetta C'è la voltoio C'è la voltoio Lì Come c'è lì Aspetta un attimo Fermati Girati Sei una scaletta Salì lì Ma a metà della piramide C'è una porta per entrare Dentro la piramide Parkour Sei rimasta a metà Vado nella porta Devi capire da che lato Non di qui Eccolo lì L'hai vista? Cosa ci sarà qua? Un parkour Un parkour Con le scale temporanee E giocare con altri È sempre molto bello Che non si capisce niente Complimenti Rifacciamo Sono scale temporanee Non Scompaiono Le famose scale temporanee È difficile allora Bene Perché è troppo grande Quello spazio? Io non ho capito Perché sull'antenna Non hai voluto andare Fino in cima all'antenna Perché non riuscivo? Ma come non riuscivi? Basta fare un salto laterale E adesso Sali Come cavolo hai fatto? Fantastico Hai preso un L'armadillo Bravissimo Adesso sali in cima all'antenna Devo saltare Perché se no Esatto Bello Aspetta che allargo un po' Salta di lato Visto? Semplicissimo Eh appunto Ecco così forse è ancora più facile Perfetto No? Perfetto Io Se te guarderei lei cosa fa Hai visto? Perfetto Perfetto E adesso sali E non c'è nulla? Ah no Oh mamma Come si fa questa cosa? Lei è riuscita Devi saltare a grapparti No La morte Vabbè provo qualcos'altro Se non hai voglia Vado qua giù E salgo su questi cosi Per arrivare Sull'avvoltoio Ma l'avvoltoio ce l'hai o no? No Mi manca credo No Sì mi manca Anche perché qua sopra Non ci sono mai andata No Sì mi manca Sì ma non finirà mai Sono tantissimi No Dai No dai Eh dici sempre così Oddio Perché sei sceso? Ah per andare lì giusto Mi preoccupo Mi viene l'ansia L'ansia Lì mi è venuto anche a me E abbiamo preso La volta La volta E hai preso anche una medaglia Oh il coniglio E raccalda Non è un coniglio È un raccalda Fantastico Se è nell'acqua Forse dentro l'acqua c'è qualcosa Una tartaruga La tartaruga Prendila Eh non riesco Tartaruga di mare Questo non è mare Tartaruga di mare Se fai più sopra e sotto Più volte mi viene il vomito Aspetta che provo Perché non mi fa andare in profondità? Forse perché Forse perché Eccolo C'era qualcosa C'era qualcosa vicino All'alga Alga Alganori Ah no è la tua ombra Ho sbagliato Secondo me se stai sotto Muori Troppo E vai fino in fondo La dietro L'orca Guarda in giù Non guarda in su Non c'è nulla Anche perché Non so se lo conosci Un animale che vive sul fondale Sì ci sono Ci sono animali da fondare Su quella torre Uh di là Uh di là Uh è di solito il vestito Che fanno gli ammini di Roblox Quando muoiono Però vabbè dettagli No no sono riuscito Forse a entrare Sono in un lago No in un fiume scuole Ho sbagliato Volevo dire fiume Però vabbè dettagli Di fiume Fiume Adesso risaliamo A galla A galla Uh Uh Cos'è? Una frog Una frog Uh io ho detto a caso Una frog Invece era una frog Bene me ne hai trovati Difficile No non è difficile Ma è grandissimo sto mondo Sembrava piccolo Invece qui ci c'è il panda Sicuro Perché siamo in mezzo al bambù Al bambù Vuoi mettere Cioè Eh Cos'è successo? Una tenda Ok non c'è nulla Sembrava un tempio E' ingannevole sta cosa Uh c'è il bradipo Dov'è? Oddio Sì che Come faccio ad andare ad arrivare lassù? Bella domanda Date anche una risposta Allora La risposta è salgo sul bambù Sali sul bambù? Hmm Interessante O non salgo sul bambù No Sì salgo sul bambù Sì sale sul bambù E adesso sale Io non sono capace di giocare così No no proprio Allora Eh Io ti cercherei anche Il problema è capire dove sei Allora Ti vengo No lagga il mio Vai avanti tu Col tuo È complicato Sì tu non ti preoccupare Il mio è impallato che fa paura Non so come fai ad essere così immobile Uh 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 Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Preso? No 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 Ce l'ho fatta salire Sul bambù No eh Ah sì Sì è No è Sì è No 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 Siete delle brutte persone Sappiatelo Bruttissime persone Bruttissime Eh Il mio salterra Si vede che c'è qualche problema Eh Beh Su Roblox Oggi O il mio telefono È impazzito Vado verso un'alte Non è che qua Il panda Sei precipitata sotto Forse sì O C'è O cielo O cielo Ho preso un mus Io intanto Un mus Un mouse Un mouse Un mouse Un alce Il giro a caso È tutto buio lì Ma non so cosa ci devo trovare Evita di toccare le paletiche Sono morto così Senza guardare il mio schermo Sono morto E adesso Oh Cos'è Un pipistrello Un pipistrello Come si prende il pipistrello Bene Saltando a caso Bene Cosa Il problema è che sono morto Ah Mmm E' strano È strano sto gioco Per come funziona È molto male Vediamo Vediamo Se può essere una soluzione È molto grande questo mondo Esatto Ciò può essere una soluzione No No Non può essere una soluzione Come si è arrivato lì Tipo Ah Ecco cosa serviva Il quadrato blu Ok Ce la posso fare Non è complicato No Scusa Ma perché sono Perché non vado Ah no È solo un vicolo E vabbè Allora Pipistrello Probabilmente non riuscirò mai A prenderlo Cioè guarda Ragazzi C'è tantissima tensione Il pipistrello Se me lo danno come facile Come facile Giuro che No Dubito che sia facile Il pipistrello Adesso andiamo a vedere Allora Ma l'hai preso? No no Mi manca poco Cioè L'ho visto So dov'è Ma Non lo Non lo riesco Medio Medio La faccia di medio Devi camminare su Delle linee Mamma mia Giuro che se cado Eh diventa brutta La situazione Vabbè dai Si è allargata La riga Almeno qua Il problema è proprio Lo sbagliare Sbagli una volta È finita Oh grazie Che tipo Sta spostando Al quadrato Si Io nel frattempo Sto salendo Sulla torre Più alta Del mondo E quindi Ma non ne capisco Il motivo Per cui Mi sposta Al quadrato Ma no Forse l'ho Forse l'ho capito Ma Sono Cioè Ma sei caduta? Sì Ma Questa è cosa brutta Da fare Non farlo mai più Tipo grazie Che mi sposte Vabbè io direi che Prendiamo questo Batman E poi ci fermiamo Uh Così è facile Preso Bat Oh fantastico Adesso possiamo Uscire da Questa caverna Brutta E ritornare Nella Foresta Di panda Ma scusami È la foresta Di panda E non ci sono i panda Esatto Cioè Non riesco a capire Io sono salito Sulla torre Più alta Del mondo Dove sono? Ma tu Il mallardo L'hai preso In cima alla torre Devi buttarti Dentro al comignolo E lì c'è Un uccellino Ma dove lo vede Il panda Sto gioco No ma lì Arrivare lì È impossibile Dai Qua c'è un panda C'è il panda Il panda c'è Comunque Confermo Non sono Pazzi C'è il panda A riuscire A salire Su sti cosi Magari Prendere anche Il bradipo Vabbè La terra di panda L'abbiamo vista Anche se non riusciti Siamo riusciti A prendere qualcosa La prenderemo poi Io ti consiglio Di salire sulla torre Più alta del mondo Se la trovi Quella che c'era Nella città iniziale E poi Chiudiamo qui Perché altrimenti Siamo qui 40 minuti A cercare animali Torna indietro In città Si sai la strada Sì arrivo Volevo andare Nell'era dei dinosauri Wow L'era dei dinosauri Allora finiamo lì All'era dei dinosauri La torre la facciamo In un'altra partita Esatto Facciamo Questa è la parte 1 E quella sarà la parte 2 Esatto Qua camminiamo Sul bordo del mare Come lo chiama lui Perché dice Tartaruga di mare Esatto Non ho capito Se devo evitare I buchi O meno Si devo evitare I buchi Evidentemente Devo evitare I buchi Giuro che Se mi rimanda All'inizio Cioè No No E va giù la torre Allora Che peccato Eh vabbè Tanto L'elefante l'ho preso Sì L'elefante l'ho preso Entra una torre Devi salire le scale Normalmente Ma io ero salita Su sta torre E sei entrata nel comignolo No Prima no Cioè Non prima Adesso Quando stavo giocando Guarda se hai l'uccellino Allora Vediamo Quello No No Non ce l'hai Ma il lard Ma il lard Mi pare che sia quello Comunque sali Fino in cima Perché quando arrivi su Non lo vedi Devi buttarti dentro Il comignolo A un certo punto C'è La Da salire Sulle scale verticali Quindi sali ancora Sali ancora Dall'alto Poi si vede benissimo Si vede benissimo Eccola lì Sali lì E Sì Forse era meglio Che stavi un po' più Sali 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 No Devi Guarda dietro Di Di No Ecco Fermati Girati Cosa No no Scusa Sali Però un po' più frontale Esatto Lì E vedrai che poi Su quel piano lì Devi andare No sali ancora No no Sali 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 Eccolo lì Vai lì su quella scala Sali Aspetta che Allora Non sta venendo il vomito Chi ti segue Allora Vai sul tetto Oh mamma mia Che paura No no sali sali Vai dentro il camignolo Fermati un attimo Guarda giù Oh mio Non si vede niente Non si vede neanche niente Scompare E buttati dentro il camignolo Dentro Non mi fa buttare Eccolo lì Preso Mallard Adesso c'è la scaletta Sali 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 su se vuoi Esatto E lanciati giù Che fai prima Volare Su questo mega volo Su cui non si fa niente La Sara Io vi ricordo di iscrivervi al canale Mettere un like Condividere un commentare Schiacciare la campanella Per il segnale di tutti i video E come sempre Noi vi sfruttiamo Ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao